Dobbiamo dare atto al Presidente Zaglia che ha avuto la sensibilità insieme alle associazioni e alle organizzazioni sindacali di mettere giù un piano strategico che noi ci auguriamo che nelle prossime settimane possa entrare già in funzione e debellare quello che è il primato negativo del Veneto con 33 morti nell'arco di 6 mesi. Il piano strategico regionale sulla salute e sicurezza dei lavoratori è il risultato di un tavolo di concertazione costituito su richiesta unitaria dei sindacati dopo il tragico incidente alle acciaierie venete di Padova con un contributo offerto da tutte le parti interessate dalle associazioni imprenditoriali di categoria agli enti pubblici. È un accordo che coinvolge tutte le parti sociali e abbiamo fatto un lavoro molto buono soprattutto con il dirigente dell'apparato della ragione. Riteniamo che questo è un giorno importante e adesso bisogna lavorare sulle commissioni cioè sui tavoli dove dovremmo applicare questo accordo. Oltre all'assunzione di 30 nuovi ispettori Spisali il piano prevede tra l'altro anche la costituzione di un osservatorio sui cantieri edili ed un programma di formazione sui temi della sicurezza da sviluppare anche nelle scuole. È prevista inoltre una raccolta ed analisi dei cosiddetti mancati e quasi infortuni informazioni utili a sviluppare misure ed interventi di sicurezza preventivi. Questo è il primo miglio di un percorso lungo tutto da fare e oggi iniziamo e iniziamo nella direzione giusta ci diamo una strategia condivisa con tutti i soggetti fissiamo degli obiettivi è chiaro che adesso si tratta di lavorare rimboccarsi le maniche e concretamente giorno dopo giorno attuarli e realizzarli perché potremmo dirci soddisfatti soltanto nel momento in cui si invertirà questa tendenza e il Veneto perderà questo primato vergognoso che ha conseguito in questo 2018.